Abbiamo presentato come Partito Democratico, ma lo vogliamo aprire al contributo di tutte le forze politiche e di tutti i parlamentari interessati, un disegno di legge finalizzato alla sistemazione dei territori alluvionati del Piemonte nell'alluvione del 2 e del 3 di ottobre e allo sviluppo dei territori interessati. Immaginiamo distanziare, così come ci ha indicato la Giunta regionale, una cifra di 500 milioni destinata ad un piano di sviluppo che contempli da un lato la sistemazione delle opere infrastrutturali danneggiate nel corso degli eventi atmosferici, dall'altro a un sostegno all'economia di territorio attraverso contributi a fondo perduto, incentivi alle aziende e sostegno attraverso modalità fiscali alle imprese sia di nuova generazione che quelle presenti che vadano nella direzione di sostenerle nel percorso di riattivazione. E più in generale questo disegno di legge vuole anche creare le condizioni per le quali i nostri comuni si possano adeguare dal punto di vista urbanistico e geologico all'effetto della piena bicentenaria che necessita quindi anche di una serie di misure dal punto di vista della pianificazione urbanistica e dall'altro dell'attivazione di opere di stralcio dell'autorità di Bacino del Po per la realizzazione di opere a difesa di quegli abitati che ora sono stati colpiti, che non erano stati contemplati nella precedente programmazione. Questo si inserisce all'interno di un percorso che vedrà tra pochi giorni l'emanazione di un decreto sul dissesto idrogeologico che andrà anche nella direzione di risolvere alcune problematiche connesse con la pulizia degli alveri e dei corsi d'acqua e il nostro obiettivo è quello di inserirci nella legge di bilancio del 2021 per iniziare a dare delle risposte molto concrete ai territori colpiti.